Ciao Stefano, sono Benjamin da Eclipse e sono qui sul vostro posto dove ti mostrerai una macchina di coffee connettiva, certo? Sì, è vero, questa è una macchina di coffee e il motivo per cui la macchina di coffee è connettiva alla cloud è che il produttore del coffee Illy, una brand d'Italia, vuole essere sicuro che la qualità del coffee è constante nel tempo che il numero di coffee, il tipo di coffee che è prodotto ogni giorno è sotto controllo della company vendendo il coffee. E che tipo di connessione è? È come GPRS? La macchina è collegata alla internet con un link GPRS o con un link WLAN, un link Wi-Fi, dependendo del contesto. Quindi se un hotel è il posto dove la macchina di coffee è installata, magari il Wi-Fi è ok, una sala di conferenza o una situazione come questa, GPRS è meglio. Ok, e quindi come sta succedendo la comunicazione tra il codice di coffee e la macchina di coffee? Ok, sì. Hai utilizzato un protocollo che conosco. Potremmo, sì. La scelta è stata fatta al principio del progetto per adottare MQTT come un protocollo e non è stata una buona scelta perché è molto facile da essere implementato, molto facile da essere debuggato, usato e così via. Quindi chi ha fatto la decisione per usare la scelta? La decisione è stata un'indicazione dal produttore, perché è vero di essere molto vicino a Eurotech, uno dei fondamenti del protocollo. E che conoscono il protocollo molto bene. Abbiamo apprezzato durante il sviluppo che il protocollo è molto buono anche per molti altri prodotti e situazioni. Quindi stiamo utilizzando l'Eclipse PAO? Sì, stiamo utilizzando l'Eclipse PAO. Stiamo utilizzando l'Eclipse PAO. Stiamo utilizzando un broker dentro della macchina, e, ovviamente, un broker sulla strada di cloud. Ok, e questo broker sarà Mosquito? Il broker è Mosquito di due strada. Le librarie che stiamo utilizzando nella macchina sono dei derivati di Mosquito. Stiamo utilizzando anche il stesso protocollo tra parti della macchina. Quindi, dentro della macchina, MQTT sta utilizzando per comunicazione inter-processi e per comunicazione tra due diverse CPU. E tra la macchina e la cloud è per telemetria, PURPOS e magari più? La principale usazione tra la macchina e la cloud è per telemetria, per colpire data su come la macchina è stata utilizzata e la qualità. Temperature, diversi dati. Ma, al stesso tempo, MQTT sta utilizzando anche per migliorare la macchina dalla cloud. La macchina completa di Linux che sta utilizzando nella macchina può essere migliorata usando MQTT. E possiamo anche collegare un panel di supervivenza che sta utilizzando su PC per l'applicazione del servizio che sta comunicando con MQTT e controlla il comportamento della macchina in reale. in reale. Questo è solo durante un servizio di servizio di assistenza alla macchina, ovviamente. Quindi, sei da Bluwind e avete utilizzato MQTT in altri contexti? Sì. Sì. Siamo utilizzando MQTT in ogni situazione in cui un protocolle è necessario ma anche lo utilizziamo per il nostro interno sviluppo perché è molto facile con MQTT è molto facile ad aggiungere un canale dal remoto al nostro sistema. Siamo una casa e abbiamo un sistema per le company e abbiamo in ogni situazione e praticamente in ogni situazione è necessita quindi dove è necessita la scuola non è fatta dal cliente cerchiamo di pulire MQTT perché lo sappiamo molto bene ovviamente. Grazie Stefano è davvero bello vedere cosa stai facendo con MQTT e abbastanza grazie 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 grazie